Il diciassettesimo secolo, il Seicento, è il secolo del barocco, un termine che è stato usato a posteriori rispetto allo sviluppo dell'arte e dell'architettura di quel momento, indicando un'alternativa al linguaggio rinascimentale. Le due cose non vanno viste in modo contrapposto. In realtà il linguaggio barocco è una trasformazione dei linguaggi che venivano dal manierismo, quindi l'uso dell'artificio, l'abilità tecnica, le invenzioni mirabolanti, lo stupore. Il barocco gioca le sue carte sulla maniloquenza, sull'intelligenza creativa, sul coinvolgimento dello spettatore in chiave sentimentale, ma anche di meraviglia. E naturalmente quindi se l'effetto che si vuole ottenere è quello, è ovvio che anche nelle trasformazioni, non solo delle città e delle architetture, dove appunto le architetture assumono dimensioni teatrali, gigantesche, monumentali e che mutano i punti di vista, per cui lo spettatore in realtà diventa attore della città, diventa attore delle architetture, camminando all'interno delle quali cambia i punti di vista. Questo vale naturalmente anche per le figure, dipinte o scolpite che siano. Per cui ciò che interessa rappresentare è il coinvolgimento sentimentale dei personaggi e la loro partecipazione emotiva a degli avvenimenti. Dobbiamo tener conto che nel secondo Cinquecento gli scontri teologici e anche politici naturalmente tra la riforma protestante ai paesi del nord Europa e la riforma cattolica che coinvolgeva i paesi del sud dell'Europa era arrivata ed era divenuta una separazione definitiva in Occidente e il mondo cattolico si era dotato di una serie, diciamo, di regole, anche relative alle opere d'arte, nel modo di rappresentare le storie sacre, la vita dei santi, i martiri. Ed è evidente che gli artisti si adeguano a un modo di rappresentare anche le storie sacre in un modo appunto pieno di patos, di sentimento. I valori religiosi, i messaggi religiosi non passano più attraverso, diciamo, un equilibrio formale che era tipico del Rinascimento, ma attraverso appunto un coinvolgimento di tipo psicologico, diremo oggi. Ma questo vale anche per le storie antiche, il mito, le storie bibliche. Bernini, che è stato forse il più grande scultore di quel secolo, rappresenta appunto il mito di David, che combatte con il gigante Golia, in un modo alternativo di come l'aveva fatto Michelangelo praticamente un secolo prima. Ovvero, Michelangelo aveva rappresentato David stante, in un momento in cui l'eroe biblico decide di intervenire nella battaglia, si slaccia la fionda dalla spalla ed è pronto a colpire, ma viene fissato dall'artista in una forma equilibrata, perfetta, classica, tanto quanto Bernini invece coglie l'attimo nel quale David, avendo caricato la fionda, è pronto a colpire. Sta lanciando la pietra e il suo volto si contrae in una tensione che insieme psicologica e fisica. Il corpo ruota su se stesso, manca solo di vedere la pietra che viene scagliata e noi avremo davanti un racconto in movimento. Questo è il barocco, la capacità di fissare attraverso l'arte, naturalmente nella pietra o nel colore, se fossero appunto dipinto, il proprio questo momento del movimento, questa abilità nel coinvolgere lo spettatore in qualcosa che succede davanti ai suoi occhi e quindi che lo coinvolge direttamente. Grazie. Grazie. Grazie.